Ciao ragazzi, un saluto da Tarfone, eccoci qua a quel quarto episodio, c'era un rapimento alieno da andare a salvare. Allora, useremo tutte unità nuove. Cazzo, tutte donne? Ma proviamo a fare tutte donne? Vai, team solo donne. No, Samuele... Boh, tutte donne. Vediamo come lo va. C'è un achievement da fare... Un achievement da fare praticamente... Porta a termine una missione con la truppa solo donne. Mh, odio questa mappetta. Va bene, andiamo a ripulire l'area. Rispondete QG, la squadra ha raggiunto la zona operativa. Chiediamo autorizzazione a procedere. Ricevuto Big Sky. Strike 1 è libero di ingaggiare. Allora, possono essere comunque bastardi, maledetti. Allora, sul tetto al momento sembra libero. Voglio un gruppetto di 4 sul tetto. E 4 sotto, direi. Che probabilmente sono nella via dentro qua. Che avendo 4 sopra la... Eh, li prendiamo dal... Dai fianchi tranquillamente. E al momento mi va bene così. Vediamo se qualcuno sente movimento. Il rumore che ho sentito non mi piace per niente. Comunque, prima muoviamo quelle sotto. Ok, la porta è libera. Tu di qua. Tu di qua. Ti mettiamo in guardia. Che non si sa mai che entrino dalla porta. E adesso li potremo attivare. Nemici avvistati. Eccoli lì. Beh. Direi comunque cominciamo bene. Sì, proprio cominciamo bene. 84% è missa. Sei bradi, passai. Ok. Ok, due danni. Uno parato dall'armatura. Che palle è sta armatura però. 54%. Vediamo se lo colpisce. Liscio. C'è quattro scariche per buttarne giù uno. Va bene. Vabbè. Don't worry. Questo adesso lo ritiriamo su. 83%. Ok, perfetto. Guardia. Guardia. Abbiamo il controllo del tetto almeno. Ma che cacchio sono? Sarà mica dentro l'edificio, vero? Posto peggiore è l'edificio dove combattere. Cazzo, sono proprio dentro l'edificio, porca trovera. Allora. Sono sicuro che sul tetto non ci sono. Vado. Minchia. Minchia. Dove cacchio sono? Posizione confermata. Ma cosa è stato? Uno in meno sul terreno. Perfetto. Li abbiamo sgamati, allora. Sperando che non ci sia nessuno di là. Buon, perfetto. Il medico lo portiamo di lì. Ok. Avanzo alla posizione. Mancato, che palle. Non è possibile. Mi sta muovendo. Granata stordente. Posso stordire quello, via stordiamolo. Questa teniamola sempre di guardia. Vediamo se quello lo... Sì, questo lo prendo. Perfetto. Anche se riesco a stordirlo. Strano però che ce ne siano così pochi. E te, tesoro, ti muovi la di corsa. In modo che poi li possiamo prendere dal fianco. Uh, ottima questa cosa. Se chiediamo questo, automaticamente potremmo chiedere questo, forse. Uh, cazzo. Queste sono rogne. Procedo. Allora, sta zoccola qua è di guardia, giusto? Avanzo. Ma no, dai. Tre danni è basso senza critico. E vai giù. Ottimo. Perfetto. Oh, ehi. Beh, mi si è impallato il mouse. 61%. Guarda te dove cacchio erano, mi sa che quello lì lo perdo. No, questo si mette in auto riparazione. Minchia. Che sta succedendo? No, non è giusto! Non è giusto! Ok, si è riparato. Che palle. Che palle. Ho sbagliato a muoverla dietro l'angolo, uffo. Sbagliato a muoverla dietro l'angolo, uffo. Perché dovevo automira. Vabbè. Un altro giorno, un'altra operazione riuscita. Che palle, cazzo. Ho perso un soldato. Che due palle. Non si succede questo. Minchia, sono 13 minuti di partita. Beh. Uh, cecchino. La squadra che non si è andata è riuscita. Non esco senza... Ah, buono. Panico diminuito. Rilevato, contatto. Vai, altri intercettori. Aggressivo, via. Buttiamo giù tutto. Massacriamoli. Beccato. Liscio. Contatto, perduto. Cazzo, non ho più intercettori. Se dopo questo mi scappa, sono... Mi scappa l'unfo. Dai che lo pigliamo, dai che lo pigliamo. Inseguimento. Abbattuto, perfetto. Comandante, abbiamo ricevuto una trasmissione del consiglio. La giro sui monitor. Fiscazioni Uniti. Suoi associati sono rimasti trovati in un attacco alieno in Brasile. Se l'ufficiale dovesse venire ucciso, se l'ufficiale si diffondeva il panico ed efficace di confondimento nel centro dei vostri soldati, dovranno ascoltarli. Bersaglio al punto di distrazione. Minchia. Eccellente. Attendiamo con impazienza i vostri progressi. Cioè, quante cacchio di missioni ho attive? Porca boia. Minchia. Individuo io, per esempio, il panico in posto. Cazzo, questa è brutta come missione. Più che altro, probabilmente sono quelli che spruzzano il veleno e probabilmente ci saranno gli assalti difensivi anche. Che palle. Beh, almeno mi danno tutte le divisine. L'ufficiale delle Nazioni Unite, Peter Van Dorn e il suo entourage sono rimasti coinvolti in un'esplosione che ha colpito un ponte nell'area. I nemici stanno convergendo sul punto. Dovrete accertarvi che il signor Van Dorn sia ancora vivo e riportarlo indietro in tempo. Nuovo obiettivo ricevuto. Ci provo, amico mio. Ehi! Siamo vostri alleati! Bravo. Ricevuto. Siete la squadra inviata per Van Dorn, giusto? È corso avanti per cercare uno degli uomini colpiti dall'esplosione quando il ponte è andato distrutto. Ascoltate, non possiamo affrontare quelle creature. Voi recuperate Van Dorn e noi trascenderemo i feriti al vostro velivolo. Devo muovermi velocemente. Molto velocemente. E manca l'ultimo. Eh, sta di qua, perfetto, direi. Allora, sta ti muovi qua. Tu ti muovi qua. Tu ti muovi qua. In guardia. Tu. Ti muovi qua. Sempre di guardia. Tu ti muovi qua. Sempre in guardia. Tu ti muovi qua avanti. Non sono quelli che sputano questi che palle. In guardia. Quelli non bisogna lasciarli sputare che sennò velenano tutto il team. Allora, tu mi resti di guardia qua. Perché tanto dobbiamo tornare indietro. Per cui, preferisco avere qualcuno di guardia. Che mi copra le varie zone. Allora, per spararmi devono venire su. S.B. che non ha lasciato di fucili che ti fanno da far paura. Eccoli. Micchia. No, cioè, vuoi dire... Cioè. No, ci credo. Hanno sparato tutti. Ah no, adesso questa è un'altra. 35. Sì, vabbè, 35. Ehi là. Attenzione. Cioè, hanno tutti sparato. Vedete questa nuvola qua? È veleno. Il bastardo può anche sputare e avvelenare tutti. Si mette tipo un turno due ad andare via. Allora. Questo lo muoviamo qua. Allora, questa la lasciamo qua in copertura. Tu resti qua in copertura. Tu resti qua in copertura. Tu mi scatti qua avanti. E anche tu mi scatti qua avanti. Ottimo, cavolo. 70... Eh beh, posizione alzata. 70% ci sta. Qui si ritira una granata in the face adesso. Uh, no, aspetta. C'ho il VIP lì. Eh, eh, tranquillo, tranquillo che arriviamo. Beh, 74% possiamo provarci. Ottimo, perfetto. No, voglio usare una granata d'aghi. Sì, lo so. Ma a me servono morti quei cosi lì. 58%. Merda, mancato. 57%, vediamo. Mancato, maledizione. Eh, sì, dannazione. Eh, sì, dannazione lo dico anch'io. 56%, vediamo. Preso, perfetto, ottimo. Cercano di ritirarsi. Volete scendere a cosa? Eh, mi dai il tempo? Ci vado ora. No, vediamo che da qua non lo vedo. Quello potremmo anche fargli ricaricare l'arma. 58%. Beh, proviamoci, oh. Che palle! Me lo fai fuori, vero? Bravissima. Allora. Pronto a proseguire. Pronta allo scontro. Ci sono. Boh. Ha ricaricato tutti, almeno quelli che potevano. Siete la squadra speciale? Venite qui! Ci penso io. Ovviamente scarica. Grazie al cielo siete qui. Sì, io respiro ancora, ma non posso dire lo stesso per i miei uomini. Andiamocene di qui, prima che arrivino altre di quelle cose. Ragazzo. Non so a quali forze apparteniate, ma non ho mai visto un equipaggiamento simile. Comandante, dovremmo scortare il VIP allo Sky Ranger il prima possibile. Obiettivi aggiornati. Io ce lo scorto sì il prima possibile. No, ma te ricarica l'arma, va. Cominciamo a ritirare anche le truppe. Strike 1. Rileviamo un'ondata di alieni vicino alla vostra posizione. Occhi aperti. Qua, ragazzi, ce ne andiamo. Chi se ne frega delle kill, ma qua ce ne andiamo. Aha, sì, sì, certo, come no. Allora, siccome sto stronzo è di guardia... Due danni e uno d'armatura, maledizione. Non posso neanche provare ad avvicinarmici, perché se no mi spara. Ho altre truppe qua vicino. Ho questo, che in teoria se lo muovo qua... Esatto, non entra. Dai, uccidilo. Vaffanculo. Eh, già. Allora, vediamo. 53%, oppure vediamo se la granata ci arriva. Ma però piglia l'auto. Merda. Sì, signor comandante. Cazzo, forse se lo muoverò lì, lo vedeva. Granata. Uh, la granata da chi ci arriva. Forse riesco ad ucciderlo. Ottimo, perfetto. Vaffanculo i frammenti di armi. Ma preferisco tenermi a invita. Mi sto muovendo. Sì, signor comandante. Se usciremo vivi di qui, spero solo di potermi vendicare di quei bastardi di alieni. Lo devo ai miei uomini. Sì, basta che la smetti di parlare. Ti faccio uscire io vivo. E si mette in guardia. Però non mi... Forse non mi vede. Buon, tre danni. Uno l'ha assorbito l'armatura. Che palle! 54% dai. Ok. Andato. Perfetto, 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 perfetto. Allora. Spostiamo indietro questi. E li... Li sposto di scatto. Cominciamo a raggrupparli velocemente. Ora di correre. Devo stare attento al veleno. Li sto muovendo. Vorrei aver potuto fare di più per i miei uomini. Ho perso dei vali di elementi. Vabbè, mi dispiace. Intanto muovo il culo però. Allora. Non dovrebbe andare nel veleno. Perfetto. Questo lo faccio arrivare qua. E comunque lo metto in guardia. Questo lo faccio arrivare qua. E lo metto in guardia. Ecco, adesso è esplosa la macchina. E sta per esplodere anche questa. Un colpo ce l'hai ancora. Te mettiti qua. Te mettiti qua. Te mettiti qua. Te mettiti nell'angolino. Tu. Cazzo qua. Entra nel veleno. Vabbè. Muoviti lì. Mi sto muovendo. La situazione si stava mettendo male. Non ce l'avrei mai fatta senza di voi. Poi voglio vedere come faccio andare a stare all'UFO. Chi altro? Con cosa ci vado all'UFO? Vi devo un favore. Davvero. Senza il vostro aiuto non sarei qui. Il VIP è sano e salvo a bordo. Allora. Continua missione. Obiettivo aggiornato. Ben fatto. Ora dovete soltanto eliminare i nemici rimasti. Mi sto muovendo. Oh sì. Pronti a proseguire. Fado. Mi sto muovendo. Essendo loro che devono venire da noi. Tanto vale aspettarli. Penso io. Mi dirigo a quella posizione. Ma allora li posso estrarre? Scusa. Non devo per forza finire. Non devo ucciderli tutti. E tu stai qua di guardia. Ti metti qua. Ti metti qua. Ti metti qua. Te ti metti qua. Vedi che mi dà eliminare gli alieni rimasti. Ma ora posso finire lo stesso. Adesso vediamo al massimo il di riposizione. Mi sono rotto le bolle. Mi sto muovendo. Mi sto muovendo. Mi sto muovendo. Ah no. Forse perché. Essendo uno dentro nella zona di estrazione. Lui li vuole estrarre tutti. No no. Gli uccidiamo tutti gli stronzi. Eccolo lì. Dovrebbe essere l'ultimo. mancato. Però se si muove più avanti. Forse lo vedono gli altri. Esatto. Mamma mia. Che batosta che mi ha mollato. ragazzi voglio eliminarli tutti. Cioè non esiste la terra è mia. Buah. Eh? Devo stare attento alla macchia di veleno qua. Oh questo lo possiamo mettere in guardia. Che cosa buona e giusto. Andiamo a prendere gli altri alieni. Eh sicuramente sono qua. Allora fino a lì la zona è sicura. Corro. Sì signore. Dai 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 dai. Forza 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 forza. Questo che è? Ah eccolo lì. Ora di correre. Protezione a zaro ma lo mettiamo di guardia questo. Questi sono i piccolini. I grigi per intenderci. Quelli. I primi che combattiamo. Guardia. Mi dirigo a quella posizione. Sì signor comandante. Mi muovo. Questo qua. Ma due in retroguardo li voglio. Che non si sa mai. Vediamo se sblocco qualcosa. Devo per forza andare giù ma. Ovviamente sono su di là i bastardi. Sono qua sopra. Ricevuto. Mi muovo. Molto probabilmente. Questi lasciamo l'inguario. Perché se si muovono almeno. Abbiamo la copertura. Questa la portiamo avanti. Sono qua sopra. Sono qua. Io le lancio la ceca. Vediamo. Dopo provo a lanciare la ceca. se li ho fatti incazzare da stanarle. Un assemblamento di truppe se si fanno vedere pronte a spararli nelle chiappe. Ora di correre. Abbiamo qualcosa qui. Allora sono qua i maledetti. Vediamo una... Allora. è tutta zona scoperta questa cazzo. vediamo se si può fare un semi kamikaze. Comunque. Allora qua sono affiancati. Per cui sono fermi. Cioè si devono si spostano perché sanno di essere presi sul fianco. Questa è un po' più lunga come episodio ma almeno finiamo la missione. Poi l'altra vediamo come cavolo riuscirò a farla perché non ne ho idea. Sono presi sul fianco perché si devono spostare. Mizzega. Resiste al panico anche da una scarlata prima categoria. Dai che ce la fai ragazzo non muori, non muori dai, non muori. Grandissimi. Allora te figliolo mio ti mettiamo qua che così li prendi tutti e due dal fianco e uno l'abbiamo fatto fuori col critico e l'altro invece che è questo che li ha fatti uscire l'ho scoperto lo mettiamo qua uno li prende dal fianco peccato perché c'è il muoretto qua. Benissimo andata. Perfetto. Sì anche perché abbiamo lo schianto dell'ufo anche se penso che ormai sia sparito. A parte che non so se ho uomini da mandare comunque vabbè adesso vediamo. Allora altro cecchino. Gli scout mi dispiace ragazzi ma non mi piacciono. Gli attacchi normali non terminano più il turno se come prima azione per cui praticamente questo potrebbe sparare due volte e la cosa mi potrebbe piacere. Infatti è un assaltatore ma due assaltatori facciamoli volentieri perché ho comunque due cecchino. Oh pesanti ne ho pochissimi eh. Eccolo qua. Mitragliere. Ma un granatiere però quasi quasi. Giusto da. No un ingegnere. Eh. Casuale. Vediamo cosa mi dà. Che palla col casuale perché mi dà sempre la scout. Fusione non l'abbiamo trovata. Due ingegneri riduzione del panico e soldi. Perfetto. Ok ragazzi. Io vi saluto qua per questo episodio. Ci si vede alla prossima. Se vi è piaciuto lasciate un like. Tanti commenti che ne chiacchieriamo. Vediamo anche suggerimenti vostri o altro. Vi saluto che siamo già a 45 minuti di video. Mi sa che è un po' troppo. E ci si becca al prossimo episodio. Ciao ciao.